pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati solennità di pentecoste gesù compiuta la sua missione ascende al cielo invia lo spirito santo che si effonde sulla chiesa santificandola incessantemente inabitando il cuore dei credenti prendendovi dimora dalla ricchissima liturgia di domenica cogliamo due parole preziose per la nostra vita e per comprendere qualcosina in più dell'opera dello spirito santo gradualità e unità prima parola gradualità gesù nel vangelo dice molte cose ho ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso quando verrà lui lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità ecco lo spirito santo aiuta a crescere gradualmente ci illumina progressivamente pensate a una persona che è al buio da tanto tempo se in pieno giorno si aprissero improvvisamente le finestre le porte la luce la cecherebbe diverso e se venissero aperte un po per volta ecco lo spirito santo come un sapiente pedagogo ci accompagna conduce la chiesa l'aiuta a entrare sempre più profondamente nel mistero dell'amore di dio accogliere il senso delle sue parole ad approfondire le verità di fede così da poterle vivere affrontando le sfide della quotidianità così a livello personale miei cari man mano che preghiamo che frequentiamo i sacramenti che meditiamo la parola lo spirito santo ci santifica ci aiuta a conoscere sempre meglio il signore e noi stessi a scoprire la nostra vocazione accogliere il senso di ciò che viviamo man mano ci da la grazia e la forza di affrontare situazioni inattese magari dolorose d'altronde se sapessimo tutto e molto prima molte cose ci schiaccierebbero ci paralizzerebbero ecco lo spirito santo non mette sulle nostre spalle pesi che non possiamo portare potremmo dire che con fare materno lo spirito ci aiuta a crescere c'è un'immagine molto bella applicata a dio nel libro del profeta esaia che dice come un pastore egli fa pascolare il gregge porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri come a dire il signore accompagna ciascuno adeguandosi al suo passo rispettando i suoi tempi aiutandolo a crescere ora miei cari se lo spirito santo fa così con noi noi vogliamo chiedere la grazia di imparare l'arte di accompagnare abbiamo qui qualcosa di prezioso che riguarda la nostra vita e quella degli altri se ci pensate come dice san paolo noi tutti siamo chiamati a tendere alla perfezione alla piena conformazione a cristo tendere ma non pretendere la perfezione in questo cammino di crescita è importante trovare un certo equilibrio che richiede maturità ad esempio santa teresina di lisie diceva che è importante trovare l'equilibrio tra tendere al meglio e accettare i propri limiti dobbiamo accettare che anche noi cresciamo passo dopo passo che non basta sapere le cose per risolvere i nostri problemi che c'è un cammino di conversione a volte lento segnato da cadute da ripartenze allora questa gradualità dobbiamo applicarla anzitutto con noi stessi e anche con le persone che ci sono affidate ad esempio noi a volte pensiamo che per suscitare il cambiamento basti buttare in faccia la verità alle persone magari senza carità ma non funziona così voler bene a qualcuno accompagnarlo vuol dire cercare di aiutarlo a prendere consapevolezza delle cose a maturarle dal di dentro rispettando i suoi tempi e tenendo conto delle sue capacità ad esempio io posso manifestare un bisogno o una cosa che mi ferisce oppure mettere in luce alla persona che ho accanto un punto sul quale potrebbe lavorarci su per crescere ma poi ci sarà il cammino di conversione di quella persona che io non posso forzare ecco allora miei cari vogliamo davvero chiedere al signore come primo punto la grazia di crescere nell'arte di accompagnare secondo punto l'unità guardiamo la scena della pentecoste descritta negli atti degli apostoli i discepoli con alcune donne sono riuniti in preghiera nel cenacolo ad un tratto irrompe lo spirito posandosi su ciascuno di loro sotto forma di lingue come di fuoco soffermiamoci su un dettaglio molto importante luca ci dice che iniziarono a parlare in altre lingue come lo spirito dava loro modo di esprimersi e infatti usciti fuori incontrano persone di altre nazionalità e in altre lingue gli apostoli iniziano a parlare loro delle opere di dio iniziano ad annunciare gesù notiamo lo spirito santo non ha unificato tutte le lingue ma ha dato agli apostoli la capacità di parlare altre lingue creando così unità nella diversità questo è molto importante miei cari il papa ci ha ricordato che da un lato lo spirito santo ci arricchisce dei suoi doni dei carismi e questi doni non sono per un uso egoistico o fini a se stessi ma per il bene di tutti dunque da una parte lo spirito santo arricchisce dei suoi doni potremmo dire crea molteplicità ma dall'altra crea unità dunque l'unità che crea lo spirito santo non è l'uniformità l'uniformità sembra proporre una strada più semplice voglio risolvere dei problemi nella chiesa in una comunità in una famiglia uniformo tutti devono dire o fare le stesse cose questo può sembrare efficace nell'immediato perché da una parvenza di unificazione e sembra portare un certo ordine un po come facevano le dittature in quel caso attraverso la paura portavano anche una funzionalità nei servizi ancora oggi alcuni dicono si stava bene quando comandava quella persona infatti imponendo l'uniformità si porta una certa tranquillità ma essa è soltanto apparente infatti è foriera di rabbie represse perché molti per adattarsi a quest'ordine di cose devono reprimere la propria unicità la volontà di esprimere la propria diversità devono insomma reprimere quel dono bellissimo che dio ci ha fatto del libero arbitrio ecco perché l'unità si crea nella diversità potremmo dire che lo spirito santo è l'armonia delle differenze ecco perché diceva ancora il papa se volessimo usare una immagine l'unità che crea lo spirito santo non va intesa come l'unità di una sfera dove ogni punto è uguale all'altro e tutti sono equidistanti dal centro l'immagine più bella è il poliedro dove ogni parte conserva la propria particolarità nell'unità della propria diversità ora miei cari se lo spirito santo muove a questo se incessantemente lavora perché siamo uniti a dio e tra noi anche noi siamo chiamati a diventare artigiani di unità questo in modo concreto cosa ci chiede diciamo tre cose primo avere un cuore aperto alla grazia perché miei cari da soli una unità del genere non riusciamo a costruirla a noi la diversità la molteplicità ci spaventano perché chiede di non occupare spazi e fare spazio agli altri chiede la fatica del camminare insieme agli altri conoscerli valorizzarli insomma chiede libertà dal proprio egocentrismo per raggiungere dunque questo tipo di unità abbiamo bisogno di avere in noi l'amore di dio di essere anzitutto persone che camminano con lui seconda cosa per diventare artigiani di unità dobbiamo imparare ad accogliere è un verbo bellissimo usato anche nel nuovo rito del matrimonio io accolgo te accogliere l'altro per come l'altro è con tutto il suo set di pregi e difetti nella sua meravigliosa diversità e soprattutto unicità accogliere l'altro non per come lo vorrei o per come penso che lo farò diventare ma accoglierlo così e com'è l'estate scorsa abbiamo accompagnato dei giovani alla gmg di lisbona con il papa e lo abbiamo sentito dire delle bellissime parole a riguardo nella chiesa c'è spazio per tutti nessuno è inutile nessuno è superfluo c'è spazio per tutti così come siamo giovani e vecchi sani e malati giusti e peccatori tutti padre però io sono un disgraziato una disgraziata c'è posto per me c'è posto per tutti poi chiaramente ciascuno avrà il suo cammino di conversione all'interno della chiesa ma le porte sono aperte a tutti terza cosa per diventare artigiani di unità è importante imparare a valorizzare le differenze direi meglio valorizzare il bene che c'è negli altri sapete san francesco d'assisi desiderava profondamente la perfezione cioè essere conforme a gesù quando pensava al frate perfetto lui non pensava al singolo individuo scolpito dalle virtù che raffigurasse tutto il cristo come un abile artista guardando i volti i cuori e le virtù dei suoi frati componeva una figura che univa ad esempio l'amore alla povertà di frate bernardo la semplicità e la purezza di fra leone la gentilezza e la bontà di frate angelo la contemplazione di frate egidio l'incessante orazione di frarufino la pazienza di frate ginepro la robustezza fisica e spirituale di fra giovanni delle lodi eccomi cari san francesco pensava a questa figura dinamica potremmo dire a questa immagine poliedrica san francesco potremmo dire sapeva vedere e valorizzare i doni degli altri e non ne faceva oggetto di discordia di invidia o di separazione ma una ricchezza ne prendeva esempio e sapeva che i doni di ciascuno erano a beneficio di tutta la comunità davanti a tutto questo noi ci potremmo chiedere a che punto sono nell'accogliere gli altri le differenze degli altri anche i limiti degli altri e soprattutto so valorizzare il bene presente negli altri in conclusione cari fratelli e sorelle chiediamo davvero allo spirito santo che rinnovi e santifichi sempre più il nostro cuore aiutandoci a crescere in questo bellissimo cammino di conformazione a cristo e di unità facendo nostre le parole della bellissima preghiera del santo cardinale che dice così guidami tu luce gentile attraverso il buio che mi circonda si tu a condurmi la notte oscura e sono lontano da casa si tu a condurmi sostieni i miei piedi vacillanti io non ti chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte un passo solo mi sarà sufficiente che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti